Cosa devo dire? Io sono tradizionalista, per me meglio della costa di Vergine Maria non ce n'è, sarà che altre coste palermetane sono belle, ma se noi andiamo a guardare la costa, a parte lo scaricatore che ci ha rovinato tutta la costa di sotto Vergine Maria, andiamo a guardare dalla Torre Saracena fino alla Daura, c'è una scogliera magnifica, una bellissima scogliera, l'odore delle alghe, sale, arriva fino alla strada, arriva ovunque, più bella di questa, questa, Palermo è questa.